Musica Quest'oggi possiamo concederci un sorriso perché i compagni non sono più in carcere, dobbiamo pensare anche a tutti quelli che per la manifestazione contro Salvini, questo becero fascista e leghista in questo momento sono ancora detenuti o in carcere o ai domiciliari. Insieme a loro e con tutti i compagni e le compagnie che sono usciti oggi continueremo questo percorso di lotta con il sorriso e con la consapevolezza che la strada da fare è ancora tanta ma è l'unica strada percorribile e lo sappiamo bene noi e dovranno capire anche loro. Li vediamo qui adesso schierati in stazione che muovono il reparto della cenere ma loro non possono comprendere noi e non interessa che ci comprendano. Noi oggi, quest'oggi abbiamo un cuore che batte, che batte forte perché sette compagni sono tornati a casa. E allora ce lo ripetiamo, ce lo ripeteremo migliaia di volte che non ci fermeranno i divieti, non ci fermeranno le denunce, non ci fermerà la galera. E la dimostrazione più chiara è che noi oggi siamo qui, in tanti, tantissimi, col sorriso, pronti già alle prossime iniziative, pronti ad affrontare la zona di lotta che ci aspetta. La parte non mi vuole, andate bene via! 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 La parte non mi vuole, andateоном, andate bene覺' Ciao, 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 ciao Maginiano, portami via che mi sento di morir. Allora, grazie a tutti.